Quando siamo venuti nel lontano 2007? Abbiamo trovato in affitto due uffici che poi praticamente pian piano abbiamo ampliato. Dopo dieci anni siamo riusciti a realizzare con tanti sacrifici uno stabile bellissimo al centro della zona industriale. Domani avremo questa nuova sede, quindi il trasferimento dalla vecchia sede alla nuova. Penso che abbiamo fatto un bel investimento. Grazie. 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 Grazie.